Ultimo nato di casa VM, parliamo del Frixphone C4, scopriamolo insieme! Ultimo nato nella famiglia Frixphone, il telefono Frixphone C4 presenta caratteristiche davvero straordinarie. L'audio HD, le innumerevoli funzioni multimediali e i servizi internet, nonché la gestione di musica e i dispositivi smartphone trasformano l'utilizzo di questo telefono in un'esperienza unica, garantendo anche il migliore intrattenimento. Nel Frixphone C4 è addirittura possibile sincronizzare la vostra rubrica di Google. Telefono cordless, standard DECT GAP per la telefonia via internet e su linea fissa, completamente ideale per tutti i modelli di Frixbox con stazione base DECT, supporta la telefonia HD, offrendo così un timbro naturale. Viva voce full duplex, in qualità HD, sicurezza integrata, grazie alla trasmissione vocale codificata. Ricevi feed RSS, radio web e podcast. Consente di leggere le email ricevute e di rispondere. Gestisce media server, UPnP e dispositivi smart home, per intenderci il DLNA, elenchi chiamate, chiamata di sveglia, baby phone e blocco suoneria. Tect eco, disattivazione automatica delle onde radio in stand by, aggiornamento con nuove funzioni, semplicemente premendo un tasto. Fino a 10 ore di autonomia in conversazione e fino a 6 giorni di stand by, rendono questo terminale davvero unico. Possibilità di portata all'aperto fino a 300 metri e fino a 40 metri negli edifici. C'è anche la possibilità nel Frixbox di ridurre la potenza affinché non si emanino onde inutilmente per piccole abitazioni, per esempio. Configurazione di numeri brevi, elenco di chiamate e blocco numeri, chiamata interna, clear ed eventuale soppressione dei numeri in uscita. Il Frixbox progredisce di pari passo con le tue esigenze. Il nostro team di sviluppo è costantemente impegnato nel miglioramento delle prestazioni e del comfort. Ti basterà premere un tasto per scaricare in modo automatico e gratuito l'aggiornamento più recente. Telefoni HD, display a colori, libertà di movimento, deck ecologico, massima sicurezza, rendono questo Frixphone C4 un terminale davvero davvero interessante. Grazie per aver ascoltato la mia recensione, iscrivetevi al canale e alla prossima!